ci sono andrea che è appena chiuso lo stasso vabbè comunque sono a 1104 cofei oggi sono compagnia di nessuno sto registrando allora ragazzi oggi facciamo un esperimento in due ovviamente blocchi di sospettare un graduati io chiedo a Dio di qua che mi consiglio che è venuto a pratica solo no no sono andrea sono andrea sono andrea sono andrea sono andrea allora ragazzi si mi chiamo Bibi e andiamo a fare una giocata almeno comincio a vincere un botto di partite sto per non vedere ma non è vero tutto il tempo è vero non è vero che ti ammazza ai 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 ragazzi che tra poco mi ammazza e tra poco il mio compagno di partite è vero che ti ammazza è vero che ti ammazza ti ammazza e ti ammazza Che appena infilato la botta con bustonale. Posso uccidere? Posso uccidere? Vaglio. Uccidere. Vaglio, perché se ne ho fatto male? Non bisogna fare male. In effetto, il secondo posto, qui. P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. Uccidelo, uccidelo. Mi tolgo, raga. E' difficile. Io metto il cuore pronto perché non ho freddente di te e così vincono tante. Ho aumentato le coppette. Quante? Se si risponde, se ne danno. Sette. Come? Come? Cosa? Come cosa? Para. Bravissima. Para. Ma che nabbo? Nabbo. E vabbè. Che fortuna. Che ho vinto qui. Che ho vinto qui. No, c'è lì. Mitto santo. Lo scambio, Mitto santo. Ma suonico te. Oh, 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 che. Da questo distante, questo raro, c'è il bullone. Che si scappa, il bullone. E tutti le pinzate. E tutte le chiusloni. Che staglie sono belle. Belle. Tutte le sue pelle. Le cipolli. Tutte le sue pelle. E la paperella bei. Fa tutto tutto sei. Può avere questo blu. E questo raro il tuo. Tutto su questo, questo qua non ti farà ma sono molto strano che ha, eh ragazzi, un, due, vabbè, sono dettagli questi, eh, eh, bimbi è più forte, eh. Metti sì, no, metti no, 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 metti no, bravo, è perfetto, questo è tipo con, oh, sì, io, io prendo una scuola, un'altra, scusa, io lì ho preso, vedi, c'è, c'è, c'è. Eh, chiusa, quel, no, non cosa fischi, di tanto si tuccide, vada, vedi, io faccio la via, lo resta. Il mare Aia Tutto mi fanno male E' la bomba nucleale Dai mi perché sei nucleale Quante bomba è male Guarda se viene qui Proprio Ma cerchiamo Ok Ora Ora Qui stiamo andando adesso Io Ma vado Sì 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 Bravo Merch Ah 2 3 7 Bene il primo C'è io Ancora da battere Ah Tutto lui Non lo sapevo Guarda Più 9 Sì C'è almeno 9 Guarda Ma scusate Allora Qui stiamo A fare Partito Nel finito Perché Cioè È troppo Su Minecraft Dopo Non lo porto Perché Avevo un problema Non c'era nessuno Pensava C'era De Nel finito Quindi Odessi Sì Sono Anni Penso Quindi Ho dovuto Disfruttare Stas E Non c'è Pietro Quindi Ho potuto Cercando Con qualcuno Quindi Non ce l'ho fatta Per poi Scrivere un messaggio A Davy Che non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Inimendo Per poi Non ce l'ho fatta Benissimo Lo difference Lo difference buildams Nooo Sì Allora Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta E Anni Lo Dio tanto forte quel raggio ora c'è una roba e crediamo quindi qui ci sarà il bambino che non è perfetto non è giusto ma non ho il non ho il qui vedete che è il 92 del 130 e non ci sono neanche un derogato di traro vedete perché ho voluto vedere i bambini io ho proprio quello che ho fatto sono i bambini ora è solo stare facciamo la partita vediamo 100% di incidenti vabbè vabbè ora non prendo un po' un po' un sacco un sacco un sacco di traste di traste di traste di traste di traste il primo questo è l'acolo eheh il primo questo è l'acolo per me secca che musica esiste capovacca scelta 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 aia aiuto eheh sto morendo proprio eheh 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 perchè tutti su di me lo mettete tra loro eheh 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 che problema eheh perfetto guarda perfetto eheh 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 io quindi io quindi una cassetta eheh 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 uno un bel uno due 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 eUE IDV FI E' tutto questo, che vado tutta questa E' tutto sempre, ammattito Noi! 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 Ok! Noi! Devante! Quattro! Mi fa un po' Mi sta togliendo Poca Poca Non lo so Poca Non lo so Oggi si sa il nostro A livello si sa il nostro Vabbè Perfetto No 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 Sì, non è un po' di più. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. incredibile incredibile con le scelli incredibile specca 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 cavolo 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 quelle scelli cavolo questa la prendiamo la prendiamo prendiamo proprio quelle crozzate proprio male crozzate proprio male così a prendiamo 10 0 10 11 0 c'è proprio proprio non è giusto proprio non è giusto così la vita non è giusta e vabbè ragazzi andate a uscire io sono più a giocare all'immunità che non spogli tutto vuoi cercare forse muoviti bombardino muoviti muoviti fatti questa scelli scelli ok cantoni d'italia ma non d'italia vedere Frank e Frank sto dimostrando eh Frank uccidila ma uccidila ma uccidila che guante di vita oh almeno che bombardino è bravo c'è qui un bel Frank che muore subito immediatamente muore quel Frank specca specca ucciso specca perfetto ucciso specca c'è quel Frank seguire dunque il c'è avviene vantaggio non c'è non c'è non c'è è questo in verità perché è impossibile è impossibile c'è o c'è è impossibile è impossibile è impossibile non c'è tanto io è impossibile è io è io non gioco guarda guarda è impossibile come la scritta è più difficile è il gioco giuro è il suo e due è che c'è uccide c'è non c'è 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 forse è più forte la squadra è il migliore è il migliore c'è 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 quindi ci vediamo la prossima volta quindi direi di salutarvi e quindi ciao ciao